HR Innovation siamo con Alessandro Camilleri, direttore sviluppo, formazione e organizzazione del gruppo ERA e gli chiediamo che cos'è ERA nel territorio. ERA nel territorio è un'azienda che cerca sempre di investire per creare un valore condiviso. Per noi valore condiviso significa poter crescere, crescere non solo come azienda ma con tutto il territorio di riferimento. Senza queste caratteristiche è difficile portare un valore aggiunto che sia sostenibile nel futuro. Come mai ERA ha voluto organizzare questo evento? L'evento HR Innovation per noi è importante proprio perché parlare oggi di risorse umane senza parlare di innovazione non è sicuramente qualcosa di attuale. Innovazione non bisogna confonderla con l'utilizzo di nuovi strumenti, di mode, di trend che oggi magari si leggono nelle principali riviste. Bisogna comprendere fino in fondo cosa significa innovare. Innovare per fare qualcosa di meglio rispetto a cosa si faceva prima. Innovare significa ripensare le proprie modalità di lavoro, significa ripensare il modo in cui si produce il valore aggiunto. Per noi nell'HR questo si può fare in una maniera straordinaria oggi rispetto al passato, proprio perché le opportunità sono molto di più rispetto a prima e proprio perché se abbiamo quella curiosità professionale per metterci in gioco sicuramente potremo resistere e anche svilupparci di più come famiglia professionale nel futuro. Grazie. Grazie.